Oggi voglio raccontarvi una storia che ha come protagonista mio nonno, il tipico vecchietto di 90 anni. Piccolo piccolo ma con una forza incredibile. Lui ne ha passate tante ma le ha vinte tutte. Mi ricordo che giusto qualche anno fa era messo molto male, aveva una gamba in cancrena e i medici gli avevano detto che non ci sarebbe stato più nulla da fare perché non avrebbe retto l'anestesia a causa di altri problemi che aveva. Mio nonno però incazzatissimo firmò contro tutti per farsi operare andando così personalmente a sfidare la morte. Beh ti svelo come andò a finire. Alla fine vinse lui. Io ovviamente poco dopo lo andai a trovare e lui mi prese da parte e mi disse una cosa che tuttora mi porto dentro. Alè, senza gamba e senza soldi si può vivere. E quanto è bello vivere. Beh quel giorno mio nonno mi insegnò a dare significato al dono più grande che abbiamo, la nostra vita.